eccoci allora pronti per iniziare come ci diceva Domenico diamo il nostro benvenuto ancora una volta a tutti quelli che si connettono per la prima volta e partecipano in un corso dell'ufficio catechistico della diocese di Roma e un ben trovati ben ritrovati a coloro che hanno partecipato con noi da ottobre a dicembre al corso base per catechisti ecco questa sera andiamo inizio a un corso di formazione permanente il term in evangelica audio e approfondiremo tutto il tema in questi incontri che ci aspettano come vi diceva prima Domenico diamo ancora delle indicazioni pratiche vi chiediamo di tenere il video spento durante quando il relatore parla in così che da non sovraccarichiamo la rete e come vi è stato già detto abbiamo disattivato l'audio così che se volete fare degli interventi delle domande alla fine potete utilizzare la chat ecco iniziamo adesso il nostro incontro con una piccola preghiera proclameremo un salmo qui sarà proiettato adesso sullo schermo io lo leggerò ad alta voce per tutti e voi potete pregarlo stando lì alla vostra postazione iniziamo nel nome del Padre e del Figlio dello Spirito Santo Amen proteggi mio Dio in temi rifugio ho detto al Signore il mio Signore sei tu solo in te è il mio bene agli idoli del paese agli dei potenti andava tutto il mio favore moltiplicano le loro pene quelli che corrono dietro a un Dio straniero io non spanderò le loro libagioni di sangue né pronuncerò con le mie labbra i loro nomi il Signore è mia parte di eredità e il mio calice nelle tue mani e la mia vita per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi la mia eredità è stupenda benedico il Signore che mi ha dato consiglio anche di notte il mio animo mi istruisce io pongo sempre davanti a me il Signore sta alla mia destra non potrò vacillare per questo gioisci il mio cuore ed isulta la mia anima anche il mio corpo riposa al sicuro perché non abbandonerai la mia vita negli inferi né lascerai che il tuo fedele veda la fossa mi indicherai il sentiero della vita gioia piena alla tua presenza dolcezza senza fine alla tua destra gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo come era nel principio ora e sempre nei secoli dei secoli Amen ecco adesso ci inoltriamo in questa prima serata di corso una serata che ha lo scopo proprio di introdurci a quello che è il corso e all'argomento che poi tratteremo approfondendolo facendo delle zoomate l'argomento appunto del KERGMA e dell'annuncio diamo la parola a Don Andrea buonasera a tutti ben trovati allora questo corso di formazione permanente parte un po' da quella che era stata la proposta lanciata dal cardinale Vicario l'anno scorso alla diocesi che era quello di dedicare l'anno alla riflessione sul KERGMA poi in realtà la diocesi ha un po' deviato perché è stato avviato il processo sinodale e quindi si è deciso di ovviamente di insomma associarsi a quella che era quello che è il cammino sinodale di tutta la chiesa mondiale e della chiesa italiana in particolare ma comunque abbiamo deciso come ufficio di mantenere il tema del KERGMA perché ci sembra un tema fondamentale dal punto di vista della formazione dei catechisti parlando del KERGMA stiamo parlando un po' del cuore della catechesi e siccome il Papa in Evangelii Gaudium ha ripetuto questo questa centralità del KERGMA abbiamo appunto chiamato il corso il KERGMA in Evangelii Gaudium non nel senso che leggeremo Evangelii Gaudium ma che vogliamo partire dalla prospettiva del Papa in Evangelii Gaudium e per questo il corso è articolato in sette incontri il primo è quello che facciamo oggi ed è un po' un'introduzione generale che ci aiuta a entrare nel tema del KERGMA e anche a cominciare a vederne alcuni aspetti che poi come vi diceva su Rosaria verranno un po' sviluppati negli incontri successivi se guardate la struttura del corso che avete in questa slide nel secondo terzo e quarto incontro che saranno tenuti tutti dalla stessa persona parliamo del KERGMA di Dio Padre il KERGMA di Gesù Signore il KERGMA dello Spirito effuso notate facilmente la struttura del credo cioè della Santa Trinità perché una delle cose che il Papa dice in Evangelii Gaudium è che il KERGMA cioè l'annuncio fondamentale della fede non può che essere un annuncio della Trinità un annuncio trinitario perché la Trinità è il mistero fondamentale della nostra fede e dopo aver quindi sviluppato un po' questi tre aspetti dell'annuncio all'annuncio della paternità di Dio di Gesù Signore e del dono dello Spirito parleremo invece di quelle che sono due dimensioni più umane del KERGMA cioè la dimensione sociale e la dimensione personale questi due incontri sono tenuti da un'altra persona e infine l'ultimo aspetto che vogliamo toccare è quello della dimensione liturgica cioè come nella liturgia che celebriamo soprattutto nella liturgia eucaristica tutto ciò che abbiamo detto viene effettivamente vissuto dunque partiamo allora da Evangelii Gaudium vediamo un po' che cosa dice il Papa in Evangelii Gaudium ci riferiamo al numero 164 e il Papa scrive vi leggo questo testo che appunto un po' ci fa da traccia abbiamo riscoperto che anche nella Catechesi ha un ruolo fondamentale il primo annuncio o KERIGMA di fatto la parola KERIGMA che viene dal greco KERISO vuol dire precisamente annuncio predicazione e i cristiani a un certo punto hanno cominciato a usare questa parola dicendo il KERIGMA cioè l'annuncio con la maiuscola che potremmo anche dire come è un sinonimo di il VANGELO con la V maiuscola cioè l'annuncio del VANGELO quindi il cuore della predicazione dell'evangelizzazione quindi ha un ruolo fondamentale il primo annuncio o KERIGMA che deve occupare il centro dell'attività evangelizzatrice e di ogni intento di rinnovamento ecclesiale quindi il papa dice se vogliamo fare catechesi se vogliamo rinnovare la catechesi in generale l'evangelizzazione della chiesa dobbiamo riscoprire il ruolo fondamentale del KERIGMA ora io parlo a tutti i catechisti che hanno già una formazione un'esperienza quindi queste cose già le sapete tutti no che non sono cose nuove per voi l'occasione di fare un corso di formazione permanente è quella di un approfondimento quindi dobbiamo approfondire che cosa vuol dire centrare la catechesi sul KERIGMA che cos'è il KERIGMA cos'è questa quest'elemento che non può mancare nella catechesi che faccio qualsiasi sia la catechesi che faccio sia che faccia catechesi agli adulti e bambini in preparazione a un sacramento oppure una catechesi per un per una festa particolare qualsiasi aspetto catechesi familiari catechesi individuali catechesi nei luoghi di lavoro no tutto allora il papa dice il KERIGMA è trinitario questo è un elemento fondamentale il KERIGMA è trinitario se non c'è nell'annuncio tutta la trinità non è l'annuncio cristiano non basta parlare di Gesù e poi ne dà una prima esplicazione è il fuoco dello spirito che si dona sotto forma di lingue e ci fa credere in Gesù Cristo che con la sua morte e risurrezione ci rivela e ci comunica l'infinita misericordia del padre vedete in che ordine il papa presenta le tre persone divine è lo spirito che viene donato a noi lo spirito ci fa credere in Gesù e nella morte e risurrezione di Gesù nella quale morte e risurrezione di Gesù noi conosciamo il padre e lo conosciamo in modo vitale quindi dallo spirito potremmo dire passando per Gesù fino a dio padre questa è la prima formulazione che il papa dà vedete che se manca un pezzo non abbiamo tutto il KERIGMA cioè non abbiamo tutto l'annuncio cristiano io non ti posso solo dire che Gesù è morto e risorto perché questa cosa se non ci metto il fatto che la morte e risurrezione di Gesù mi fa conoscere Dio come padre e se non ci metto il fatto che la morte e risurrezione di Gesù arriva alla mia vita per mezzo del dono dello spirito santo il KERIGMA non non c'è né c'è né funziona cioè non è l'annuncio cristiano nella sua completezza e poi ne dà un'altra formulazione che parte da un punto diverso sulla bocca del catechista torna sempre a risuonare il primo annuncio Gesù Cristo ti ama ha dato la sua vita per salvarti e adesso è vivo al tuo fianco ogni giorno per illuminarti per rafforzarti per liberarti vedete il primo annuncio dice il papa è l'annuncio della persona di Gesù persona di Gesù che ti ama e ha dato la sua vita per liberarti qui echeggiano alcune parole del nuovo testamento di San Paolo l'annuncio fondamentale il papa dice è quello dell'amore di Cristo e della risurrezione di Cristo dicevamo il fatto che Gesù è morto e risorto si conosce il padre e che cosa vuol dire che Gesù è vivo al tuo fianco ogni giorno per illuminarti rafforzarti liberarti sta parlando dello spirito santo questa è l'azione dello spirito santo quando diciamo che questo annuncio è il primo ciò non significa che sta all'inizio e dopo si dimenti o si sostituisce con altri contenuti che lo superano è il primo in senso qualitativo perché l'annuncio principale quello che si deve sempre tornare ad ascoltare in modi diversi e che si deve sempre tornare ad annunciare durante la catechesi in una forma o nell'altra in tutte le sue tappe e tutti i suoi momenti vedete come insiste il papa sul fatto che è l'annuncio primo perché è l'annuncio principale quindi in fondo ogni volta che io preparo una catechesi su un qualsivoglia tema a un qualsivoglia destinatario quindi con chiunque la stia facendo il centro deve essere sempre essere il carico ma qualsiasi qualsiasi sia il tema di cui sto parlando c'è anche se io sto parlando del non so di un sacramento particolare oppure se stiamo leggendo insieme un pezzo del vangelo oppure se stiamo parlando della vita di un santo sotto traccia io devo sempre aver presente questo schema cioè lo schema dell'annuncio fondamentale perché da qualche parte deve emergere deve essere almeno accennato in ogni incontro dunque è non è un corso questo che facciamo un corso metodologico cioè noi non parliamo di come si fa la catechesi ma è un corso che approfondisce un tema soprattutto contenutistico poi se volete ovviamente anche nelle domande possiamo scendere magari su cose un po più pratiche ma è molto importante secondo noi che ci sia anzitutto una piena comprensione da parte dei catechisti e una una piena comprensione non solo intellettuale ma anche proprio potremmo dire vitale esistenziale di quale sia questo centro della fede perché poi diciamo la fantasia non vi manca gli strumenti metodologici non vi mancano quindi questo poi un po viene da sé dunque per cominciare a parlare del che ma abbiamo scelto di partire da un testo che è un testo molto famoso ed è uno dei testi che sempre vengono citati quando si parla di che ma appunto di annuncio fondamentale allora lascio la parola a domenico grazie don abbiamo scelto come diceva don andrea san paolo nella prima lettera ai corinzi perché paolo naturalmente cronologicamente precede gli evangelisti e quindi il primo annuncio il primo annuncio del kerigman no e allora lo leggiamo insieme cosa dice san paolo nella prima lettera ai corinzi al capitolo 15 esordisce così vi proclammo poi fratelli il vangelo che vi ho annunciato e che voi avete ricevuto nel quale restate saldi e dal quale siete salvati se lo mantenete come ve l'ho annunciato a meno che non abbiate creduto in vano a voi infatti ho trasmesso anzitutto quello che anch'io ho ricevuto cioè che cristo morì per i nostri peccati secondo le scritture e che fu sepolto e che risorto il terzo giorno secondo le scritture e che apparve a cefa e quindi ai dodici ecco partendo partendo da quello che dice san paolo ci soffermiamo vedete abbiamo evidenziato eh alcune alcune righe e una frase in particolare alcuni aspetti di questo passo perché per noi è importante come diceva don andrea entrare un pochettino nel nel contenuto innanzitutto c'è qualcuno che annuncia vedete il vangelo che che vi ho annunciato dice san paolo qualcuno che riceve questo annuncio e allora potremmo dire che chi annuncia siamo noi catechisti siete voi catechisti coloro che ricevono questo annuncio è la comunità il vangelo il vangelo che è cristo vangelo annunciato e salva se viene mantenuto così come è stato annunciato perché il chierigma è l'annuncio del vangelo che salva appunto se viene accolto e creduto in cui si rimane allora vediamo il primo aspetto colui che annuncia chi è colui che annuncia c'è uno che annuncia cosa annuncia e san paolo dice a voi infatti ho trasmesso anzitutto quello che anch'io ho ricevuto ecco questo è importantissimo soffermiamoci un attimino qui non posso annunciare il chierigma il chierigma se io non l'ho ricevuto se io non l'ho fatto mio se non l'ho accolto se non sono rimasto in quell'annuncio che cos'è questo annuncio è quella parola appunto che è quel messaggio che mi cambia la vita e io ascoltandolo dico sì mi ha fatto fare un'esperienza ed è vero per me per la mia vita cioè per la mia storia personale per il momento che io sto vivendo per la situazione esistenziale tutto un determinato momento storico della mia vita che io sto vivendo e san paolo dice li trasmetto quello che anch'io ho ricevuto perché una volta che io ho fatto esperienza san paolo ha incontrato il risorto ho fatto esperienza di cristo risorto e quindi gli ha cambiato no totalmente la vita no sapete san paolo era pariseo perseguitava i cristiani è stato colui che era presente all'esecuzione alla lapidazione di stefano nel primo martini è stato stefano cambiato la vita redenta la sua vita allora non può far altro che fa che annunciarlo anche agli altri alle altre persone che incontra a colui che a coloro che gli stanno intorno una cosa bella no che capita ad esempio nella mia vita una cosa io non riesco a tenerla solo per me perché la natura umana il mio desiderio di parlare di dirlo a tutti è così forte così bello così eh che che mi spinge un altro passo dice l'amore di Cristo ci spinge al pensiero che se uno è morto per tutti tutti sono morti e mi spinge ad annunciare no questo questo evento questo fatto questa notizia a tutti coloro che che mi stanno attorno soprattutto a quelli che a cui io voglio voglio bene ad esempio no quindi l'annuncio in questo incontro appunto parliamo come diceva don Andrea del Kering ma del Kering ma che eh citando Evangelii Gaudium è il primo annuncio non perché è il primo e poi ce ne sono altri come diceva don Andrea ma perché è quello fondamentale principale da cui si parte e si torna sempre in tutti i nostri incontri di catechesi di qualsiasi natura e si sia allora è vero anche che non essendo un corso metodologico come appunto ha ricordato don Andrea quest'annuncio noi lo dobbiamo comunque calibrare e regolare a seconda di chi ci troviamo davanti no nei nostri incontri di catechesi perché è il corso per l'informazione permanente per catechisti e quindi lo dobbiamo appunto sviscerare e tenendo conto che una cosa è parlare a persone adulte l'altra cosa è parlare a giovani a ragazzi altro ancora è parlare a dei bambini bene come ha detto don Andrea il contenuto è quello del dell'annuncio dell'amore di Dio nel suo figlio Gesù Cristo che con l'opera dello Spirito Santo mi fa mi fa sentire amato ecco non è colui che annuncia non fa un pizzone tra virgolette no? Dio ti ama coraggio sai Gesù ti vuole bene pregaci su vedrai che se ti affidi a Dio tutto si risolve si sistema quella situazione che ti fa soffrire o quant'altro no? queste sono cose un po' particolari emozionali che non funziona così perché magari quella situazione che ti fa soffrire non si non si sistema affatto anzi peggiore allora qual è? dare testimonianza che fa colui che annuncia? da testimonianza di quello che Dio ha fatto nella sua vita magari anche passando per situazioni dolorose umanamente incomprensibili no? umanamente incomprensibili attraverso quelle situazioni manifestandosi nella mia vita facendovi scoprire il suo amore ecco questo fa colui che annuncia da testimonianza da testimonianza e appunto per dare testimonianza bisogna prima averlo sperimentato e adesso passiamo al secondo punto che noi teniamo a sottolineare in questo nostro primo incontro con Teresa che ci dice chi riceve e rimane in questo annuncio ecco continuiamo quest'analisi di questo brano della lettera ai Corinzi e sottolineando in particolare voi che avete ricevuto e nel quale restate salvi il Vangelo non è una parola stratta il Vangelo che vi ho annunciato non è una parola stratta ma è Cristo stesso il verbo del Padre che si è incarnato per mezzo di Maria accogliere la parola di Dio, accogliere il Vangelo vuol dire accogliere la persona di Gesù e il modello diciamo perfetto dell'accoglienza del Vangelo è Maria Maria che accoglie Cristo nella sua vita come donna e come madre Maria che nell'annunciazione risponde all'angelo che gli sta sconvolgendo la vita Maria eccomi sono la serva del Signore avvenga di me quello che hai detto accolgo quello che tu mi dici accolgo quello che tu stai dicendo di me quindi ricevo questa notizia questa buona notizia nella mia vita e se vogliamo così parlare facendo un esempio con la parabola del seminatore Maria è la terra buona dove c'è l'accoglienza del seme che viene seminato non è una terra sassosa che si entusiasma al momento e poi però non ha radici perché il terreno sassoso non ha tanta terra e quindi magari accoglie subito ma subito secca non è neanche una terra spinosa perché la terra spinosa accoglie ma le ricchezze e le altre situazioni della vita soffocano quella parola che viene la terra buona è Maria possiamo prendere Maria come modello perché porta frutto perché Maria accoglie la parola di Dio il Vangelo Dio nella sua vita e resta in quello che gli viene detto Maria resta come ci dice San Paolo resta salda si fida dell'angelo Maria resta anche quando Gesù nella sinagoga gli dice non sapevi che io mi dovevo occupare delle cose del padre mio Maria resta sotto la croce è un restare che non è mi innamoro in quel momento ma poi quando arriva una difficoltà scappo se voi vedete questa immagine di Maria in questa slide Maria dopo l'annuncio dell'angelo rimane è quasi un fermo immagine Maria che rimane in silenzio restando a meditare ciò che l'angelo gli ha detto e il rimanere saldi nella fede in questo caso nel Vangelo che abbiamo ricevuto rimanere richiama sempre delle relazioni profonde degli affetti duraturi descrive qualcosa di più profondo la dinamica della fede e dei discepoli deve essere dei cristiani deve essere qualcosa di duraturo rimanere con Gesù per divenire i suoi discepoli per portare frutto Maria porta frutto perché rimane anche in Giovanni la parola rimanere nel Vangelo di Giovanni dice chi rimane in me e io in lui porta molto frutto porta frutto e nel Vangelo di Giovanni questo rimanere si sente molte volte rimanere è la condizione che identifica i discepoli di Gesù rimanere nel suo amore ci permette di sentire il suo amore non trincerarsi dietro la barriera della nostra autosufficienza rimanere uniti a Gesù non è saper fare questo o quello ma significa essere essere con Gesù essere come Gesù essere per Gesù e che vuol dire questo rimanere con Gesù possiamo distinguerlo in due modi rimanere mediante la fede e mediante la carità qui anche ancora Maria ci indica che vuol dire rimanere con fede Maria rimane con le parole dell'angelo avvenga di me quello che hai detto la fede che accoglie noi come possiamo rimanere mediante la parola di Dio mediante la preghiera mediante i sacramenti è un continuare la preghiera è qualcosa che ci fa stare con Gesù in maniera costante pregate Gesù nel Vangelo ci dice pregate sempre senza stancarvi pregate incessantemente e anche sulla parola l'ascolto della parola rimanere con Gesù mediante la parola se la mia parola rimane in me sarete veramente miei discepoli ci dice sempre in Giovanni e altro modo per rimanere in Gesù sono proprio i sacramenti non mi dilungo sul discorso sui sacramenti la dimensione del rimanere è quello del servizio Marina subito dopo aver ricevuto l'annuncio dell'angelo si mise in cammino verso la montagna per andare dalla cugina Elisabetta e mettersi al servizio ecco l'unione il rimanere con Gesù non è solo affettivo ma è anche effettivo è pratico bisogna accettare un messaggio è un mettersi in cammino è un rimanere che non è uno essere statici ma mettere in pratica quello che è il comandamento dell'amore cioè il servizio verso gli altri quindi questo restare è un discepolato costante e servizievole è uno stare alla presenza di Gesù tramite la preghiera tramite i sacramenti tramite la parola ma è anche uno stare al servizio degli altri e la vera prova del discepolo di Gesù non è quel è quel saper perseverare e rimanere con Gesù nonostante tutto come dicevo non solo quando all'inizio io mi intraprendo ma saper rimanere significa perseverare e San Paolo ci dice che chi persevererà fino alla fine sarà salvato quello che noi cerchiamo e vogliamo è proprio la salvezza e quindi ecco la perseveranza è una caratteristica del rimanere nella fede ancorati nella fede bene vi abbiamo abbiamo detto che nel nel triangolo del Kerigma composto da colui che annuncia colui coloro che ricevono e il Vangelo che viene annunciato ognuno di questi tre poli ha bisogno di un'attenzione colui che annuncia abbiamo detto l'annunciatore il catechista potremmo dire noi è uno che a sua volta ha ricevuto annuncia ciò che ha ricevuto e dà testimonianza del come questa cosa ha cambiato la sua vita coloro che ricevono quindi l'accoglienza del del Vangelo non è una cosa che porta frutto immediatamente ma non basta accogliere ma bisogna rimanere come diceva Teresa è qualcosa che ha bisogno di tempo è un processo non è un istante anche se può esserci l'istante della fede dell'accoglienza ma poi il frutto della fede la salvezza potremmo dire come dice San Paolo avviene se lo mantenete come ve l'ho annunciato se rimanete saldi in quella cosa che avete ricevuto e ora guardiamo dunque il il terzo elemento cioè il il Vangelo stesso cioè che cos'è questo Vangelo da cui siamo salvati se lo manteniamo come ce l'ha annunciato Paolo quindi è il Vangelo che ci salva non è chi me lo annuncia che che mi salva no? è il Vangelo stesso perché il Vangelo stesso è Cristo non è solo una parola umana ma è la parola divina stessa è la persona di Gesù è quella parola che ci è stata mandata proprio per la nostra salvezza e Paolo dice io vi ho ve l'ho raccontata questa cosa così come me l'hanno raccontata a me cercando di sintetizzare con questa formula che Cristo morì per i nostri peccati secondo le scritture che fu sepolto che è risorto il terzo giorno secondo le scritture che apparve a Cefa e quindi ai dodici questa è una formulazione basilare del cuore dell'annuncio del cuore del Vangelo la morte e risurrezione di Cristo per i nostri peccati secondo le scritture qual è un po' il problema? che questa formulazione a noi oggi dice poco è una formulazione che diceva moltissimo a Paolo e diceva moltissimo agli ebrei e diceva moltissimo a tutte le persone che condividevano per esempio lo sfondo del biblico dell'Antico Testamento la questione dell'alleanza con Dio del peccato dell'uomo dice molto di meno a noi ha detto molto di meno in altre epoche cioè la questione del Vangelo è una questione di traduzione come facciamo a tradurre l'annuncio in un linguaggio che sia comprensibile efficace che sia significativo per le persone noi siamo convinti da un lato che il Vangelo sia sempre vero e che non abbia nessun bisogno di aggiornamenti perché è la verità di Dio che è sempre ciò che l'uomo nel profondo del cuore desidera e ciò di cui ogni uomo ha bisogno e d'altra parte siamo anche convinti che le parole del Vangelo invece vadano creativamente trovate per questo la Chiesa è sempre in una tensione fra il potremmo dire il tesoro della fede che ha che mantiene che si esprime con alcune formule e la necessità di inventare nuovi modi per annunciare il Vangelo e per raggiungere gli uomini non è la stessa cosa ovviamente il modo di pensare di uno di uno di quelli di uno degli abitanti di Corinto a cui scrive Paolo nel primo secolo dopo Cristo oppure di uno che vive a Roma nel 2022 è diverso allora la Chiesa nel corso della storia ha provato varie tipologie di annuncio ma a partire dal Nuovo Testamento stesso se pensate al Nuovo Testamento anche nei quattro Vangeli Paolo le lettere di Giovanni gli annunci della salvezza gli annunci del Vangelo sono tutti un po' diversi ci sono varie immagini che vengono usate pensate solo alle immagini del Vangelo di Giovanni per chi conosce un po' il percorso del Catecumenato cioè la Catechesi che si fa per quando da grandi ci si avvicina al Battesimo la Cresima e l'Eucharistia sapete che a un certo punto poco prima del Battesimo si leggono dei Vangeli di Giovanni si legge il Vangelo della Samaritana si legge il Vangelo del Ciaconato si legge il Vangelo della Risurrezione di Lazzaro perché perché in quei tre Vangeli Gesù dice la sua salvezza io sono la fonte dell'acqua viva quell'acqua che tu cerchi di cui hai sete quell'amore che tu hai cercato in tutta la vita io sono la fonte di questo amore se tu bevi da me questo diventerà addirittura dentro di te una fonte di acqua viva dice poi nel Vangelo questa è un'immagine della salvezza cioè del Vangelo che salva un'altra immagine è il cieco nato io sono la luce del mondo tu se se credi in me tu passi dal non vedere al vedere tu passi dall'oscurità alla luce un'altra immagine in appunto nella risurrezione di Lazzaro io sono la risurrezione e la vita con me passi dalla morte alla vita vedete che ci sono delle analogie tra queste tre immagini ma sono tre immagini diverse e questo è solo Giovanni e ce ne sono tante altre io sono il pane della vita io sono la porta delle pecore pensate invece a quelle dei sinottici cioè per dire che questa varietà questo tentativo di dire la salvezza di Cristo di dire il cuore del Vangelo è stato fatto in modi diversi fin dal principio della Chiesa non esiste una sola forma di dire il Vangelo ma fin dal principio ne esistono tante un po' per la fantasia che i cristiani ci hanno sempre messo un po' per l'ispirazione dello spirito che spingeva a formulare annunci diversi a seconda del del contesto vediamo proprio per darci un'idea molto generale vediamo una possibilità di annuncio quindi del cuore del Vangelo di cui adesso vi parlerò molto teologica questa è quindi un discorso molto alto fatto per diciamo riprendendo alcuni alcuni concetti teologici fondamentali e che segue un po' lo schema della storia della salvezza un modo di annunciare il Vangelo è raccontare una storia quale storia? la storia della salvezza cioè la storia di come l'uomo ha ricevuto da Dio la salvezza dovremmo chiarirci sul concetto stesso di salvezza che cosa significa salvezza salvezza è una parola che noi usiamo per dire ciò che ciò che mi preserva da un male se uno dice il portiere ha salvato un gol nel senso che stavano per fare gol il portiere è uscito e ha fatto una parata e ha impedito che venisse un gol quindi ha impedito un danno oppure hai salvato il documento prima di chiudere il programma no non l'ho salvato l'ho perduto il contrario di salvezza è il perdere allora che cosa vuol dire per noi essere salvati e quindi che cosa vuol dire perderci da che cosa ci salva il Signore qual è il contrario della salvezza ovviamente i cristiani hanno riflettuto tantissimo su questi temi pensate solo al tema escatologico del paradiso e dell'inferno ma parliamo appunto della storia della salvezza cioè una un certo modo di leggere la Bibbia in modo teologico che prende alcuni punti e evidenzia una storia di come l'uomo perduto sia stato ritrovato allora per farlo cominciamo dalla proprio dall'inizio cioè da qualcosa che non è storia ma è prima della storia o è sopra la storia è quella chiamata fondamentale dell'uomo che noi chiamiamo la creazione dunque in principio era la Trinità in principio erano il Padre il Figlio e lo Spirito Santo e questa questo principio che è all'origine di tutto per noi è un principio di amore abbiamo un colore rosso che ci appunto ci dice che la natura di Dio è l'amore la quindi la Trinità è un mistero di amore avanti con la slide questo questo mistero di amore è partecipato dal Padre dal Figlio e dallo Spirito Santo ed è l'origine di ogni cosa quindi l'origine anche dell'uomo e al contempo il fine di ogni cosa avanti con la slide l'uomo è creato in Dio da Dio nella comunione della Trinità anche qui vi sto dicendo ovviamente appunto non di qualcosa di storico vi sto dicendo qual è il piano teologico della realtà cioè il fatto di esistere per noi il fatto stesso di esistere per noi è provenire da Dio e avere una vocazione originaria a essere con Dio e ad essere in Dio quando Dio crea l'uomo lo crea perché sia nella comunione con Dio cioè lo crea perché sia in comunione con Lui se dovessimo collocare l'uomo in una delle tre persone divine lo collocheremo anzitutto lo faremmo colorato di rosso l'uomo cioè lo faremmo destinato all'amore destinato a vivere in Dio e poi lo collocheremmo nel figlio andiamo avanti con la slide questo è l'uomino vestito di rosso e poi abbiamo l'uomino collocato nel figlio perché perché l'uomo viene creato in Cristo nel figlio per essere figlio qual è la la chiamata fondamentale di ogni uomo per il fatto stesso di esistere quella di essere figlio di Dio questo è un dato originario iscritto nell'umanità noi crediamo dal punto di vista della fede iscritto nell'umanità sempre e comunque cioè non esiste la possibilità di un uomo che non sia chiamato a essere figlio di Dio e che non sia considerato come figlio da parte del padre uno può essere un figlio perduto perché si è perduto un figlio che non ha mai saputo di essere figlio un figlio che non ha mai vissuto la propria figliolanza un figlio che non ha mai nemmeno sospettato di avere che esista un padre ma non esiste secondo noi la possibilità di una assoluta non figliolanza dell'uomo quindi l'uomo è l'essere uomo l'essere figlio figlio di Dio sono strettamente legati e per questo quando diciamo ma se dovessimo mettere l'uomo in una delle collegata a una delle persone divine con chi lo metteremo lo metteremo col figlio col figlio di Dio dunque però qual è questa è la vocazione dell'uomo quello che noi chiamiamo la creazione ma andiamo avanti con le slide qual è la situazione invece concreta dell'uomo nella storia ricordate che la Bibbia dopo la creazione racconta subito il peccato Genesi 1 e 2 la creazione Genesi 3 la caduta e poi Genesi 4 il male che perdonate la vita dell'uomo allora la situazione concreta dell'uomo è la separazione da Dio il fatto di non conoscere Dio quindi non conoscere Dio non non essere unito a Dio non conoscere quindi se stesso come come figlio di Dio come chiamato la comunione con Dio una linea di separazione mettiamo questa linea orizzontale ma insieme a questa linea orizzontale c'è anche un'altra linea che è quella verticale perché l'uomo è separato tanto da Dio quanto dagli altri uomini in questo senso è qual è la la situazione dell'uomo secondo la Bibbia se leggete i primi capitoli della Genesi che sono proprio quei capitoli che introducono impostano tutta la storia della salvezza appunto vi dicevo c'è Genesi 1 Genesi 2 la creazione Genesi 3 la caduta Adamo e Deva il serpente il frutto Genesi 4 Caino e Abele Caino che ammazza Abele il fratello che ammazza il fratello cioè la conseguenza della caduta della separazione da Dio è la separazione dell'uno dall'altro quindi qual è la situazione storica dell'uomo che vive nel male che cos'è il male il male è la violenza fra gli uomini la discomunione la separazione che comincia con il vergognarsi l'uno dell'altro come Adamo e Deva che hanno peccato e culmina nell'uccidersi l'un l'altro ed è separato da Dio e non conosce Dio quindi è un uomo isolato che non non vive l'unione con Dio nell'unione con gli altri resta in lui e facciamo una freccettina gialla resta in lui il desiderio dell'amore il desiderio della vita il desiderio dell'eternità il desiderio di sopravvivere alla propria morte il desiderio di essere felice c'è tutta una serie di desideri confusi che secondo noi sempre dal punto di vista teologico sono in realtà il desiderio di Dio cioè quella traccia di creazione quell'inquietudine del cuore che Dio ha messo in ogni uomo ma l'uomo non sa nemmeno che cosa che cosa sia qual è il segno di questa situazione dell'uomo è la morte allora mettiamo un omino steso che ci rappresenta la morte la morte è il il simbolo concreto l'icona della situazione dell'uomo cioè della separazione da Dio e della separazione dagli altri quando muori infatti ti perdi sei perduto tu perdi gli altri perdi la vita perdi le relazioni perdi tutto quando muori c'è il mondo dei vivi che ti ha perduto e tu che hai perduto loro la morte è separazione separazione nel modo più tragico separazione dolorosa poi della morte di uno che non conosci non ti importa niente ma della morte di uno con cui invece hai vissuto la comunione con cui sei unito con cui hai vissuto l'amore allora quella morte è drammatica tragica e dolorosissima allora il la morte è biblicamente l'immagine concreta del male ed è il l'effetto e potremmo dire il riassunto della tragedia che vive l'uomo che è separato da Dio ed è separato dagli altri la morte è proprio l'immagine concreta del male dunque questa è la situazione di partenza della storia della salvezza come si svolge la salvezza cioè l'annuncio quindi questa è la situazione di partenza noi potremmo dire traducendolo in termini più personali qual è il problema dell'uomo di ogni uomo il problema dell'uomo è la morte come confine tragico della vita e come separazione dagli altri come perdita di se stesso e la discomunione la separazione con gli altri cioè la mancanza di amore questo è il problema dell'uomo dal punto di vista di ciò che l'uomo vive a livello teologico noi diciamo il problema è la separazione da Dio tutto proviene da questo ma questo è appunto ciò che uno magari scopre non lo sai a priori dunque vediamo come funziona la storia della salvezza la storia della salvezza ha due fasi due step quindi primo step il primo step è la incarnazione del figlio di Dio questa linea nera di separazione fra Dio e l'uomo viene superata da Dio stesso viene superata dal figlio di Dio che si fa uomo quindi facciamo una freccetta rossa che attraversa questa questa linea e il figlio con la F maiuscola diventa uomo vi ricordate che l'uomo era chiamato a essere figlio ma fuori da Dio non non ha più relazione con con Dio allora è chiamato a essere figlio ma è Dio che prende l'iniziativa il figlio di Dio si fa uomo e quindi avremo un omino ma riempito di rosso perché è il figlio di Dio è un omino su cui c'è una F perché è il figlio stesso di Dio quindi abbiamo un uomo che è figlio di Dio un uomo che è pienamente totalmente completamente figlio di Dio è il figlio questo uomo però è un uomo assolutamente normale non ha niente di particolare ci sono tutti i racconti dell'infanzia no una vita assolutamente qualsiasi vive la vita dell'uomo la salvezza comincia a manifestarsi quando c'è un secondo passaggio e cioè quando un'altra persona della Trinità entra in scena ed è lo Spirito Santo ricordate che tutti e quattro i Vangeli raccontano al principio il battesimo di Gesù che è la scena madre con cui si apre il racconto del Vangelo tutti e quattro lo raccontano perché senza il battesimo di Gesù non si capisce niente allora nel battesimo di Gesù lo Spirito scende su quell'uomo su Gesù che è il figlio di Dio allora lo Spirito lo facciamo con un colore diverso un po' più chiaro e quindi facciamo questo omino con la F rivestito dello Spirito pieno di Spirito con questo contornino più chiaro allora è diventato il Figlio di Dio che è uomo che è veramente quell'uomo che è figlio di Dio è pieno di Spirito Santo è diventato il Messia la presenza lui che prima era un uomo normalissimo la presenza dello Spirito di Dio su di lui della vita di Dio su di lui si mostra come si mostra si mostra in ciò che fa quest'uomo e in ciò che dice allora prima cosa questo uomo chiama dei discepoli e facciamo degli omini sotto perché è importante che chiama dei discepoli perché non è uno solitario è uno che supera la solitudine dell'uomo per vivere la fraternità ricordate che il primo problema dell'uomo era la mancanza dell'amore questa questa linea di separazione allora vediamo invece un uomo che chiama altri uomini per associarli a sé per vivere insieme qual è un un altro che cosa fa Gesù insieme con i suoi discepoli Gesù insieme con i suoi discepoli predica guarisce i malati e libera gli indemoniati queste sono le cose che fondamentalmente Gesù fa in tutto il periodo del suo ministero pubblico che cosa sono queste cose sono i segni che lo spirito santo è su di lui quando Gesù comincia a predicare dice il regno è arrivato che cos'è il regno che è arrivato è lo spirito santo che è disceso di lui da cosa si vede che è arrivato il regno si vede dal fatto che il male viene sconfitto in tutte le sue forme il male viene distrutto il male della malattia e anche della morte viene distrutto perché Gesù guarisce i malati e risuscita i morti il male della possessione cioè il male che domina l'uomo viene distrutto perché Gesù libera gli indemoniati il male del fatto che gli uomini non conoscono Dio non conoscono il padre viene anch'esso distrutto perché Gesù predica 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 parlando del padre allora vedete si comincia a manifestare la salvezza perché si vede un uomo che vive da figlio che vive da fratello e che in sé porta la forza del bene che sconfigge il male cioè che sconfigge la separazione da Dio e la separazione fra gli uomini in tutte le varie forme in cui ci viene raccontata nel Vangelo questa questa storia di quest'uomo il figlio di Dio pieno di spirito con i suoi compagni termina tragicamente nella morte nella croce ora è ovvio che dovesse finire così per forza doveva finire così se il punto di Dio è raggiungere l'uomo e la morte l'omino steso è il segno della perdita dell'uomo l'uomo che ha perso tutto è chiaro che se Dio vuole raggiungere l'uomo deve arrivare fino a lì allora il figlio di Dio pieno di spirito santo entra nella morte entra nella morte tragicamente cioè entra nella morte in modo ingiusto viene accusato ingiustamente viene torturato cioè entra in una morte drammatica nella morte peggiore potremmo dire in quella del tradimento dell'abbandono della solitudine in quella in quella morte che rappresentiamo con la croce che ci riassume questa questa cosa ma quella morte cioè quel segno della totale distanza da Dio e dagli uomini della negazione di quella che è la vocazione dell'uomo della sofferenza quella morte lui la vive al contrario facciamola di colore rosso la croce perché rosso è il colore di Dio il colore della comunione e dell'amore no? allora cosa fa Gesù? quella morte che subisce lui la vive come un'offerta di sé e nell'ultima cena offre se stesso sotto il simbolo del pane e del vino e poi concretamente offre se stesso al padre per i fratelli è quello che i Vangeli ci raccontano nei racconti della passione no? che a cui dedicano molto spazio perché dedicano tutto quello spazio ai racconti della passione perché lì abbiamo la vittoria di Cristo su quella che era il dramma dell'uomo qual era il dramma dell'uomo? la separazione da Dio e la separazione dai fratelli che cosa fa Cristo mediante la sua morte? offre se stesso al padre per i fratelli questo è il mio corpo che è per voi questo è il mio sangue che è per voi per la nuova alleanza e nel Gezzemani grida che sia fatta la tua volontà quindi è un'offerta di sé al padre il Mangello di Giovanni dice bisogna che il mondo sappia che io amo il padre per questo vado fino in fondo allora la morte viene trasformata nel suo contrario la morte che è il riassunto del male e della separazione diventa il luogo dell'amore e dell'offerta di sé dell'unione con Dio e dell'unione con i fratelli questo è ciò che Cristo Gesù il figlio di Dio pieno di Spirito Santo ha fatto in sé stesso l'ha fatto lui in sé stesso quindi è un uomo che ha vissuto così la sua morte al contrario qual è il risultato? abbiamo il Cristo morto abbiamo una perfetta sovrapposizione fra il figlio di Dio e l'uomo che era perduto il pastore ha ritrovato la sua pecora ed è diventato la sua pecora quindi abbiamo il termine della discesa ma questa morte così quest'uomo che ha vissuto completamente nell'amore fino a offrire totalmente se stesso fino a usare la sua morte come atto di perfetta offerta di amore al padre e ai fratelli questo uomo e questo amore il padre per mezzo dello Spirito lo risuscita e quindi abbiamo la freccetta al contrario qui avete due colori di questa freccetta perché che cos'è la risurrezione? La risurrezione non è Gesù che torna indietro uscendo dalla tomba e tornando da pietre dagli altri oh ciao ragazzi no non è questo ma è Gesù che è entrato nella morte per amore oltrepassa la morte non torna indietro va avanti cioè entra nella entra in Dio entra nel cielo entra con la sua umanità nella Trinità abbiamo quindi un uomo nella Trinità è importante questo fatto della risurrezione di Cristo raccontarla bene perché a volte l'arte ci trae in inganna quando vedi Gesù che esce dalla tomba con lo scettro che sembra che ha vinto sembra che esca così come è entrato invece non è questo il senso della risurrezione la tomba è vuota Gesù non c'è non si vede Gesù è oltre è entrato in Dio è quello che noi festeggiamo con la festa dell'assunzione quando diciamo il figlio di Dio che si è fatto uomo è entrato attraverso la sua morte è entrato nel cielo che cos'è la risurrezione questa vita nuova che l'uomo Gesù riceve nella sua morte è come una rinascita San Paolo dice è il primo genito dei morti è una nuova vita cioè una vita nuova che ha caratteristiche diverse rispetto alla vita di prima quella che Gesù era venuto a prendere per condividere la sorte dell'uomo che caratteristiche ha? Beh, anzitutto una caratteristica macroscopica la vita di prima la vita umana quella che Gesù aveva vissuto prima era una vita che ha come termine la morte termine naturale ma anche termine tragico come abbiamo detto riassunto del male la vita invece nuova che Gesù riceve è una vita che non ha la morte davanti ma ha la morte alle spalle è una vita che proviene dalla morte è nato dai morti è risorto dai morti la morte non è più davanti a lui non è più l'orizzonte non c'è più non è più una vita che ha un limite davanti a sé la morte è dietro è stata superata è stata avvalicata c'è stato un passaggio all'altra all'altra riva allora l'uomo ha adesso una vita ed è l'uomo Gesù ha adesso una vita eterna questa vita eterna è dovuta al fatto che quest'uomo ha offerto totalmente se stesso per amore che cosa è diventato quest'uomo puro amore tutto rosso l'abbiamo fatto puro dono di sé e quindi è unito perfettamente a Dio che cosa fa Gesù risorto nel cielo Gesù risorto nel cielo continua ad amare continua ad amare il padre continua ad amare i fratelli continua a offrire se stesso eternamente bene questa è la prima parte della storia della salvezza che cosa è successo c'è stata la salvezza cioè c'è stato il contrario della perdizione certo c'è stata dove c'è stata in un uomo in Gesù il figlio di Dio che si è fatto uomo ha fatto tutte queste cose tutti questi atti per riportare la sua umanità l'uomo in cielo nel luogo dove doveva essere dove sarebbe dovuto essere fin dal principio secondo il piano di Dio per riportare l'uomo alla sua vocazione di essere figlio nell'amore ok qual è il punto che tutto è successo in un uomo solo in Gesù e basta no per questo c'è la seconda parte della il secondo step della storia della salvezza lo step 2 che è quello che comincia con la risurrezione di Gesù con l'ascensione di Gesù al cielo che cosa succede San Luca ce lo presenta in modo molto scandito cioè Gesù che risorge poi ascende al cielo poi dona lo spirito santo San Giovanni invece ci presenta tutto insieme Gesù lo stesso giorno di Pasqua appare discepoli e dona lo spirito santo ma il concetto è sempre quello allora che cosa fa Gesù in cielo dona e fonde lo spirito santo ricordate i Vangeli sono cominciati con Gesù che riceve lo spirito santo lo spirito santo manifesta la presenza di Dio la potenza del bene che vince il male lo accompagna in tutta la sua missione fino all'offerta perfetta di sé fino alla sua morte lo spirito lo risuscita perché lo spirito è la vita di Dio quindi lo spirito risuscita l'uomo Gesù morto è pieno di spirito santo San Paolo dice non è più solamente uno un vivente ma è uno che dà la vita pieno di spirito santo Gesù dona la sua nuova vita ai suoi discepoli è la scena della Pentecoste la scena di Gesù che appunto alita sui discepoli nel giorno di Pasqua dando loro la sua vita è molto importante questo gesto Gesù sta dando loro la sua vita Gesù risorto al di là della morte sta dando loro la sua vita quale? quella vita nuova risuscitata al di là della morte non sta dando la vita di prima sta dando la nuova vita e la dà effondendo lo spirito perché lo spirito è la vita di Dio la vita del padre la vita del figlio che è diventata al battesimo in poi la vita dell'uomo anche la vita dell'uomo Gesù quindi viene data questa vita a chi viene data? a coloro che erano gli amici fratelli di Gesù durante la sua missione e quindi facciamo i discepoli tutti pieni dello spirito santo chiaramente essendo pieni dello spirito santo cioè della vita di Gesù hanno tutti la stessa vita e quindi sono uniti fra di loro ricevono la comunione ricevono quella unità di vita e questa unità di vita non è il fatto che sono uguali fra di loro ma il fatto che Gesù vive in ciascuno di loro la vita di Cristo è presente in ciascuno di loro per questo l'unione dei discepoli e di Gesù risorto in cielo è così forte che la Chiesa fin dal Nuovo Testamento la dice come una l'unione di un corpo solo questa è un'immagine che c'è in Paolo Gesù risorto in cielo è la testa il capo di un corpo che è costituito dai cristiani perché è un corpo solo Gesù risorto in cielo e i cristiani sulla terra perché c'è lo stesso spirito la stessa vita che li unisce la vita di Gesù risuscitato allora questa è l'annuncio della Chiesa questa è la Chiesa una comunità di discepoli di Cristo che hanno in sé la stessa vita risuscitata di Gesù come si manifesta questa vita diversa questa vita risuscitata si manifesta con gli stessi segni con cui si manifestava in Gesù Luca lo racconta in modo molto esplicito Gesù faceva questo questo quest'altro lo spirito santo scende sugli apostoli gli apostoli fanno questo questo e quest'altro che sono le stesse cose che faceva Gesù pari pari come si manifesta questa vita nuova questa vita al di là della morte che è presente in noi si manifesta perché l'uomo gli uomini vivono comunitariamente quel stesso amore che Cristo ha vissuto quindi si manifesta soprattutto nell'amore che cosa succede nel all'interno della chiesa di questo gruppo di persone che è unita a Gesù per il dono dello spirito santo che queste persone e qui rimettiamo la croce quella rossa cioè la croce dell'amore dell'offerta di sé la rimettiamo dentro la dentro appunto la chiesa queste persone vivono lo spirito santo dentro di loro che cosa fa fa loro vivere la stesso amore la stessa offerta di sé che ha vissuto Gesù quando gliela fa vivere dal punto di vista liturgico diciamo nella messa è quello il momento in cui i cristiani esercitano la loro vita nuova che hanno ricevuto è quello il momento in cui i cristiani amano come Cristo amato perché fanno proprie le parole di Cristo i gesti di Cristo e poi condividono un unico pane e un unico calice vivono l'unità vivendo lo spirito santo facendo vivere alla chiesa questa celebrazione questa memoria dell'amore di Cristo trasforma pian piano i cristiani finché non assomigliano sempre di più a Cristo quindi tutta la chiesa cresce verso il suo capo cresce verso Gesù risorto che cosa succede allora quando abbiamo una persona fuori no? cioè come funziona l'evangelizzazione beh che cosa succede questa persona fuori avrà lo stesso tema lo stesso problema lo stesso male che abbiamo detto c'è l'uomo senza Dio c'è la separazione da Dio e la separazione dagli altri quindi le due linee tenere il non conoscere Dio non conoscersi non riconoscersi come figlio non volere essere figlio essere un figlio perduto ed essere un fratello perduto pensate alla parabola del figlio prodigo dove ci sono questi due temi l'essere figlio e l'essere fratello ecco quindi l'uomo che non è né figlio né fratello che cosa che cosa sarà la salvezza per lui non tanto risolvere qualcosa in lui ma se avete capito come funziona la salvezza il punto sarà farlo entrare in questa comunità nella quale c'è la vita di Cristo cioè quella vita che è la salvezza che è al di là della morte e che è una vita di amore per questo gli spiaccidiamo addosso la croce rossa come simbolo del battesimo cioè lo immergiamo nell'atto di amore di Cristo nel suo lo battezziamo nella morte e risurrezione di Cristo così facendolo trasferiamo dentro la Chiesa lo riempiamo dello Spirito Santo e anche lui partecipa come tutti gli altri a questa crescita verso Cristo infatti noi diciamo che la Chiesa è la stessa Chiesa degli Apostoli è la stessa comunità non è cambiata non è che ogni volta che arriva uno cambiamo comunità ma è quella stessa Chiesa degli Apostoli in cui piano piano è entrata gente entra prima sono il giorno di Pentecoste dal Conte San Luca sono entrati migliaia di persone e poi pian piano entrano entrano tutti entrano in questa comunità nella quale c'è lo Spirito di Cristo la comunità di discepoli di Cristo certo poi possiamo dire qualcuno ne esce anche perché perché muore e quindi nel corso dei secoli tanti cristiani sono morti che cosa è successo quando sono morti i cristiani che la Chiesa da quando è morto il primo cristiano dopo Gesù mettiamo Santo Stefano per stare al racconto degli Atti allora che la Chiesa non è più stata solo quel gruppo di persone sulla Terra ma è anche le persone che sono morte ma siccome sono unite a Cristo risorto hanno in sé la vita di Cristo risorto questo legame non si divide non si scinde e quindi permane l'unione fra Gesù risorto in cielo coloro che sono morti in Cristo e coloro che stanno vivendo in Cristo questo è un modo di raccontare la storia della salvezza vi dicevo un modo molto teologico perché parte dalla creazione dalla vocazione dalla figliolanza di Dio eccetera e cerca di dare la logica del Vangelo che cosa vuol dire che Gesù ci ha salvato vuol dire che in sé stesso ha vissuto la vittoria sul male e la vittoria sulla morte facendo della sua morte un atto di amore verso il Padre di offerta di sì al Padre un atto di amore per i fratelli nel perdono pezzino verso coloro che lo uccidevano quindi questa vittoria del male in sé stesso è poi la vittoria sulla morte perché il Padre risuscita dalla vita eterna a questo amore e quindi abbiamo la salvezza in Cristo questa salvezza in Cristo viene comunicata a noi ci viene data a noi mediante lo Spirito Santo quindi cosa vuol dire per un cristiano essere salvato come vi diceva Teresa prima rimanere in Cristo essere uniti a Cristo non si tratta di tanto di io diciamo vivere qualcosa dentro di me ma si tratta di io essere in lui in Gesù e così avere la vita di Gesù bene allora un po' lunga questa parte ma era per darvi un esempio di come si può raccontare la salvezza allora adesso e quindi come si può fare il caring concretamente adesso lasciamo un po' di tempo per le domande vi ricordo le domande se avete questioni se volete chiedere qualcosa approfondire lo potete fare usando la chat quindi se volete potete scrivere sulla chat e io rispondo cerco di rispondere alle domande anzitutto rispondo a una domanda più generale che chiede Elisabetta che dice questo corso è preparatorio per avviare eventualmente la sperimentazione per il nuovamento dell'iniziazione cristiana no non c'entra niente un corso di formazione permanente per catechisti per qualsiasi catechista di qualsiasi genere quindi non è per catechisti dell'iniziazione cristiana cioè catechisti dei battesimi delle comunioni e delle cresime è molto più generico ovviamente possono farlo anche i catechisti dell'iniziazione cristiana e poi non è un corso metodologico dicevo al principio ma è un corso contenutistico qualcuno ha scritto che non ha visto le slide mi dispiace purtroppo a volte appunto il computer non sempre la visualizzazione funziona bene comunque erano dei disegnetti banalissimi che solo servivano per accompagnare il discorso Elisabetta chiede sarà possibile ascoltare queste e le altre catechesi no o almeno non immediatamente nel senso che fra qualche mese ma certamente verso la fine dell'anno metteremo poi magari queste registrazioni in qualche modo a disposizione ma non adesso Cristina chiede previsto un corso metodologico per quei catechisti che verranno coinvolti dal parro con la spiegazione del nuovo catechismo in iniziazione cristiana sì è stato fatto da settembre a dicembre verrà rifatto l'anno prossimo da settembre a dicembre Serena chiede come spiegare a chi lo chiede l'origine del male beh l'origine del male non fa parte del diciamo propriamente del Kerigma è un po' il presupposto logico nel senso che dato che esiste il male dato che l'uomo sperimenta il male nelle varie forme nella appunto nel non amore nella solitudine nel male che uno attivamente fa nella divisione nelle guerre oppure il male fisico tutto ciò che vi che vi pare dato questo allora c'è la salvezza no? e quindi è un po' il presupposto dell'annuncio in questo senso anche dal punto di vista invece del rapporto personale è chiaro che l'annuncio della salvezza il Kerigma si appoggia si diciamo si attacca sempre a quella che è la percezione del male che la persona sta vivendo è chiaro che il Kerigma è la salvezza che viene offerta da Dio in Cristo ma se io non ho nessuna non sento nessun bisogno di salvezza cioè non ho nessuna nessuna percezione del male nella mia vita nelle sue n forme allora semplicemente non mi interessa no? non ho nulla da cui essere salvato ma perché devo essere salvato da qualcosa quindi è certo che il discorso del male è in qualche modo il presupposto la Bibbia vi dicevo la Bibbia dopo aver raccontato la creazione comincia subito col male due capitoli di creazione poi Genesi 3 il male e poi un disastro che è in Eamele la vendetta di Lamech il diluvio universale la torre di Babbele una tragedia la storia è tutta permeata diciamo caratterizzata dalla presenza del male Cristo è nel Padre con i segni della passione dice Natalina certo il Signore è risorto risorto con i segni della sua passione che sono i segni con cui si fa riconoscere dai discepoli per dire sono proprio io vedete perché quei segni sono i segni del fatto che lui veramente è morto ed è passato attraverso la morte perché se il grande problema della vita dell'uomo è la morte che è legata al male allora è chiaro che è interessante solo una vita che è veramente oltre la morte cioè che ha veramente passato che viene dalla morte quindi ha i segni della morte ma è ma è viva che sono poi anche i segni di quella morte particolare che è stata una morte di offerta di amore non si chiede il peccato cosa procura poi all'interno della Chiesa rompe quell'armonia e come la si ripara sì certamente il peccato come abbiamo detto è la separazione da Dio e dagli altri e quindi nella Chiesa il peccato è il contrario della Chiesa perché invece la Chiesa è l'unione con Dio e con gli altri e quindi è il contrario della Chiesa perché è la discomunione come la si ripara? beh la si ripara semplicemente tornando alla Chiesa quindi dal punto di vista individuale se il peccato mi separa da Dio e dagli altri la la conversione è sempre tornare a Dio e tornare agli altri come si fa concretamente questa cosa? beh si fa anzitutto nell'amore nella carità nella richiesta di perdono nel cercare la comunione eccetera 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 nei casi più gravi si fa anche con il sacramento della confessione che è addirittura un sacramento che apposta serve per quei casi in cui la rottura è stata drammatica no? Angela prima quando ha detto immergiamo chi è fuori riportandolo dentro presuppone sempre una conversione da parte dell'altro lavoro in questo caso che se non si è così bravi nell'annuncio del Kerrig ma sì cioè lì facevo un esempio ma per farla molto veloce ma per dire che per noi il l'inizio della salvezza per come arriva a noi è rappresentato dal sacramento dai sacramenti dell'iniziazione cristiana no? cioè quei sacramenti con cui si diventa cristiani quali sono i sacramenti con cui si diventa cristiani? il battesimo la cresima e l'eucarestia ma sono diversi perché il battesimo e la cresima si dicevano una volta e una volta e sono molto legati fra di loro l'eucarestia invece è il sacramento che lo fai la prima volta quando sei battezzato ma poi lo fai tutta la vita no? quindi è un sacramento che comincia ma che poi continui sempre a celebrare per questo dicevo lo battezziamo intendendo lo battezziamo e lo cresimiamo cioè il battesimo e la cresima sono quei sacramenti che ti fanno partecipare pienamente della salvezza di Cristo ti uniscono a Cristo portano in te tutta la salvezza ti fanno entrare nella chiesa no? cioè che ti inseriscono in questa salvezza come si arriva al battesimo e alla cresima per gli adulti si arriva con un percorso che si chiama catecumenato che è un percorso di fede in cui io anzitutto credo che questa che questa salvezza di Cristo è per me e diceva se non si è così bravi nell'annuncio del Kerigma sì ma il Kerigma è una struttura che usiamo noi ma non è detto che le persone poi concretamente sentano per la prima volta il Kerigma o così Dio per esempio nel caso degli adulti che si avvicinano alla chiesa Dio li chiama in modi veramente molto molto vari e magari all'inizio non è così chiara c'è un'intuizione di qualcosa una ricerca di Dio qualcuno comincia più perché lo colpisce Dio la ricerca di Dio cercare di conoscere Dio come padre qualcuno lo colpisce di più la figura di Gesù qualcuno invece è Maria magari cioè veramente poi dal punto di vista delle storie personali sono tantissime quindi noi usiamo uno schema però poi la realtà è molto più variegata di questo quindi non è che bisogna essere bravi nell'annuncio del Kerigma bisogna soprattutto noi catechisti aver capito bene come funziona perché più l'hai capito più lo padroneggi più lo fai tuo più puoi puoi parlarne a seconda delle necessità come serve come si può Anna Maria chiede come si può rendere attuale questo messaggio di salvezza oggi giorno non lo so pensateci voi siete voi catechisti a seconda come si può rendere attuale appunto vi dicevo il discorso che facevo all'inizio va tradotto in termini in termini attuali certamente il modo con cui lo esprimeva San Paolo è molto rilevante per noi ma probabilmente non è pienamente rispondente ai nostri tempi dobbiamo fare lo sforzo di tradurlo come posso annunciare la salvezza di Gesù a una persona tenendo presente che i punti sono sempre quelli che la salvezza è in Gesù che ha vissuto così che ha fatto queste cose Marco chiede si potrebbe immaginare questo momento di formazione come punto di partenza per dialoghi destinati al primo annuncio della fede in Cristo Gesù all'interno di un itinerario possa introdurre l'esperienza della vita cristiana nella chiesa ci state pensando in diocesi no non ci stiamo pensando in modo così formale perché appunto questo corso di formazione lo offriamo in modo molto generale a tutti i catechisti che sono interessati e poi normalmente non facciamo tanto piani diocesani su come fare le cose ma sono più le singole comunità quindi le singole parrocchie che scelgono che proposta fare che itinerari come fare il primo annuncio se vogliono farlo se ci stanno i gruppi i movimenti si esce dalla parrocchia si fa la carità insomma quello che volete quindi questo è più un livello base non siamo alla diciamo alla progettazione di una cosa diocesana assolutamente angelo scrive discorso complesso ma la perseveranza di rimanere ancorati alla nostra fede e alla salvezza è molto riflessivo grazie speriamo di avere questa perseveranza di rimanere ancorati nella fede certamente come diceva Teresa all'inizio la salvezza dal punto di vista di colui che riceve il kerigma non è solamente l'accogliere ma il rimanere in ciò che si è accolto perché la conoscenza di Cristo il fatto della trasformazione che lo spirito santo opera dentro di noi è una cosa graduale progressiva grazie Maria Adele scrive incontro molto denso come si pede ascoltare aiuterebbe molto l'assimilazione dei concetti sì dicevo più in là forse ci sarà questa possibilità che ti scrive lo spirito santo scende su Gesù nel suo battesimo ma era già in lui giusto? no non era già in lui è proprio il punto dei Vangeli è precisamente che sul figlio di Dio che si è fatto uomo e i Vangeli dicono si è fatto anche il credo dice si è fatto uomo per opera dello spirito santo quindi c'è stata un'azione dello spirito santo e questa azione dello spirito santo è precisamente l'incarnazione del figlio di Dio ma sul figlio di Dio fatto uomo sull'uomo Gesù scende lo spirito santo nel giorno del battesimo e quando scende si vede nel senso che la vita di Gesù cambia completamente prima faceva il falegniamo a Nazare e poi si mette a fare il profeta itinerante tant'è che la sua famiglia pensa che sia impazzito quindi c'è stato un cambiamento clamoroso evidente quando lo spirito è disceso su di lui e per questo i Vangeli tutti quanti ce lo raccontano al principio perché è il presupposto della poi di tutta la missione di Gesù Patrizio chiede coloro che escono per rifiuto della chiesa della comunione con Cristo e i fratelli hanno bisogno dell'intervento dello spirito santo che noi viviamo di fede dovremmo essere in grado di trasmettergli certamente ogni diciamo ogni ritorno a Dio e ogni ritorno a Cristo è sempre un'opera dello spirito santo che poi come vi dicevo agisce in vari vari modi a volte è il contatto con una persona cristiana a volte no quindi non possiamo veramente fare una regola certamente dal punto di vista nostro di cristiani quindi che cosa è importante è importante cercare di vivere la fede cercare di vivere la carità cercare di vivere veramente il Vangelo perché perché questo può essere ciò che serve alle persone per tornare a Dio ma può essere non è detto poi lo spirito santo agisce un po' come gli pare no? bene allora tempo scaduto quindi concludiamo l'incontro e la prossima volta come vi dicevo ci sarà un approfondimento soprattutto sull'aspetto trinitario perché faremo tre incontri il padre il figlio e lo spirito santo li terrà don davide lis che è un parroco romano che è anche insegnante all'istituto di scienze religiose della diocesi e che quindi approfondirà ogni volta il kerigma in una di queste tre dimensioni e ora concludiamo con una preghiera affidando al Signore per mezzo di Maria tutta la nostra vita e le persone anche che ci sono affidate lascio la parola a Son Rosario allora come ci invitava don Andrea ci rivolgiamo a Maria come abbiamo visto con lei che ha saputo ascoltare accogliere e rimanere in quell'annunzio che aveva ricevuto e che per tutta la vita le ha chiesto di rimanere Ave o Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte Amen in nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo Amen benissimo allora vi diamo appuntamento a giovedì prossimo ecco qualcuno prima chiedeva anche le date dei prossimi incontri domani dall'ufficio rinviamo un'email con tutte le date grazie buonanotte a tutti e a giovedì prossimo a giovedì prossimo a giovedì prossimo a giovedì prossimo notUsa a giovedì prossimo a giovedì prossimo pa